Ok, è chiaro ed evidente che il problema non era l'impuntatura sul Presidente del Consiglio dei Ministri, è chiaro ed evidente che il fatto che Di Maio volesse fare il Premier era una scusa, anche perché la Lega sapeva da settimane che avremmo potuto decidere insieme un Presidente del Consiglio dei Ministri per far partire un governo politico Movimento 5 Stelle e Lega sulla base di un contratto di governo che non doveva prescindere da tre temi che ci stanno a cuore. Il reddito di cittadinanza, l'abolizione della legge Fornero e una seria legge anticorruzione per stabilire un po' di merito in questo Paese. Non era questo il punto, perché stamattina dopo l'ultima proposta fatta ancora una volta ieri pubblicamente, ancora una volta il centrodestra si ostina a voler presentarsi in Parlamento per trovare i voti con un governo del centrodestra. Non hanno i numeri, è un incarico che probabilmente non avranno mai, anche perché questo incarico si dovrebbe fondare su dei Volta Gabbana, su dei traditori del mandato elettorale, su gente che non ha nessuna possibilità in questo momento di avere da solo la maggioranza in Parlamento. Cioè, qui si sta chiedendo un mandato, Salvini sta chiedendo un mandato, evidentemente, per sostenere il proprio governo sui cambi di Casacca, sui Volta Gabbana, gente che abbiamo già visto nell'ultima legislatura e che di certo non ha aiutato le istituzioni.